Sunia e il Comitato degli Inquilini di Via Malpighi prendono carta e penna per scrivere nuovamente al Sindaco e all'Assessore Nisini perché? Perché all'inizio del 2017 il Consiglio Comunale aveva approvato all'unanimità la petizione che prevedeva un monitoraggio dell'amianto nel territorio comunale e in particolare la rimozione del tetto delle casse popolari di Via Malpighi. Noi poi abbiamo chiesto, e quindi questo era un indirizzo preciso che il Consiglio dava alla Giunta, nel mese di luglio abbiamo chiesto un incontro al Sindaco che poi in quell'incontro il Sindaco non si è presentato per problemi suoi e c'era l'Assessore di riferimento, l'Assessore Nisini che ha dato delle informazioni molto generiche e a oggi noi non sappiamo niente. Io credo che noi crediamo che quei 4.000 cittadini del Comune di Arezzo abbiano se non meno il diritto di sapere cosa il Comune ha intenzione di fare. Ma ad oggi cosa è stato fatto? Oggi per quanto concerne la rimozione dell'amianto noi non sappiamo niente. Cosa vi aspettate e cosa si aspettano soprattutto gli inquilini? Gli inquilini si aspettano la rimozione di quel tetto, l'Asl aveva dato anche delle indicazioni abbastanza stringenti per la rimozione e quindi chiediamo al Sindaco e al Consiglio Comunale di farci sapere lo stato d'avanzamento. Ovviamente l'appello è anche a Rezzo Casa? A Rezzo Casa la ha già detto di no, che non ci sono i soldi quindi è l'unico che mantiene la promessa. A preoccupare gli inquilini e anche la propria salute? Certo, questo è non solo degli inquilini ma di tutto il caseggiato.